. Selena Gomez e la madre, lo scontro continua per colpa di Justin Bieber. Come sta la madre di Selena Gomez?. La storia d'amore con Justin Bieber sta causando molti problemi a Selena Gomez con la sua famiglia. I suoi familiari non riescono ancora ad accettare il loro ritorno di fiamma. . Inoltre, non sono pronti ad accogliere di nuovo il fidanzato della Gomez dopo che le ha spezzato il cuore più volte in passato. . La madre della cantante è finita in ospedale a causa di una discussione accesa con la figlia, dopo aver appreso che le cose tra Selena e Justin sono davvero serie questa volta. . Adesso le due non si seguono più su Instagram, di certo questo non è un buon segno. A farlo sapere è stato il sito olivodlife.com. . Se l'ha il cuore a pezzi, non è felice che la sua relazione stia causando così tanti problemi alla sua famiglia. Al momento sente di dover scegliere tra il fidanzato e la sua famiglia e questo non le piace. . . Selena sta cercando di far cambiare idea alla madre su Justin. Selena Gomez sta cercando in tutti i modi di far capire alla madre quanto Justin sia cresciuto, maturato e cambiato. . Mandy, però, non sembra essere intenzionata a cambiare idea. . Una fonte ha rivelato che la Gomez capisce che la madre stia cercando di proteggerla, ma non è felice di questa situazione. . . Eppure, le due erano davvero molto unite prima del ritorno di Bieber nella vita della cantante. . 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